Il Covid-19 ha costretto il mondo a riconsiderare le proprie abitudini. La casa, The Home, è tornata a rappresentare il luogo della salvezza da un nemico invisibile, che avanza silenziosamente. Ed è proprio da dentro la casa che bisogna strutturare un discorso che aiuti a comprendere i limiti della società in cui abbiamo vissuto finora. Do It At Home nasce dall'esigenza di comprendere le problematiche del mondo di oggi, mettendo insieme risorse ed esperti che possono aiutare a disegnare il mondo di domani. Grazie a tutti di essere qui. Io sono Enrico Santos, dall'altra parte del canale c'è Nicola Marino. Il concetto di Do It At Home è iniziato circa tre settimane fa, quando Nicola mi ha chiamato per essere il primo speaker di questo concetto, di questo podcast. Da lì è evoluto, grazie al supporto di tante persone, ovviamente in primo luogo gli speaker che abbiamo avuto finora, ma poi anche Rocco Conti e Claire Chin, che ci hanno aiutato dal punto di vista della grafica e del video editing. Ecco, oggi abbiamo due speaker eccezionali, che sono Antonella Santuccione e Maria Teresa Ferretti. hanno un background impressionante, per cui non voglio essere io a presentarli, possono presentarsi da sole, però per dire giusto brevemente che hanno un'enorme esperienza nel campo medico e dal 2016, se non ricordo male, hanno fondato The Women's Brain Project, che si è occupato di individuare anche i bias che esistono nel trattamento della sanità, del bias di genere che esistono nel trattamento della sanità. Oggi ci parleranno poi più concretamente di questa tematica e quindi lascio brevemente la parola loro per introdursi e per raccontarci un pochino di cosa si tratta. Grazie. Grazie a voi. Io sono particolarmente onorata di essere parte di questa discussione e di aver avuto la possibilità di accedere a questo podio, insomma, anche se virtuale, e soprattutto sono particolarmente onorata di introdurvi a Maria Teresa Ferretti, la dottoressa Ferretti, che innanzitutto è una mia carissima amica, che poi è la Chief Scientific Officer del Women's Brain Project. Ora, il Women's Brain Project è un'organizzazione che si è fondata, come è stato detto, nel 2016, grazie all'iniziativa di alcuni scienziati che iniziavano a discutere sul perché e per come ci fossero alcune differenze nelle patologie, differenze di sesso e di genere e come eventualmente trasformare la medicina, la ricerca ed anche le nuove tecnologie a che queste differenze fossero parte integrante del loro sviluppo. Siamo partiti come un altro amico al bar diceva una canzone e in realtà non eravamo al bar, ma eravamo sul lago di Zurigo con i nostri figli che tiravano a destra e a destra perché volevano tornare a casa. E oggi eccoci qui. Abbiamo probabilmente individuato un gap molto molto importante che ha avuto una grande risonanza con l'opinione pubblica e quindi diciamo che la spinta a continuare dato che questa è un'attività che si svolge interamente pro bono quindi siamo qui a dare la nostra competenza i nostri skills ma motivati meramente da un interesse a migliorare le cose diciamo ecco questa attività fatta in questa maniera è mirata ad ottenere questo cambiamento e questo risultato che è la trasformazione della medicina e dove appunto considerare queste differenze. Stasera siamo qui perché? Che cosa è successo? Il Women Brain Project all'inizio di febbraio è stato già coinvolto nella missione Covid diciamo quando agli inizi di febbraio una persona del nostro esecutivo che si chiama Evelina Biscap la dottoressa Biscap ha deciso di partire con una missione che si costituiva qui in Switzerland per rafferciare a Wuhan e capire che cosa stesse effettivamente accadendo. Purtroppo Evelina che è anche docente all'Università di Shanghai non è riuscita ad entrare a Wuhan perché la zona era effettivamente chiusa però ci ha dato la possibilità di avere molte nozioni di quello che stava poi effettivamente accadendo in Cina e ci ha informato sin dall'inizio. Devo dire che Evelina è ancora lì e continua appunto ad essere il nostro mittente se si può dire così in italiano penso di sì e continua ad aiutarci con quelle che poi sono le informazioni necessarie a gestire questa situazione anche sul territorio italiano e anche su quello svizzero. Ora, quello che è risultato interessante già dagli inizi di questa avventura è che c'era un dato che veniva fuori in Cina su come le donne fossero meno affette gravemente da questa patologia e come purtroppo fossero più gli uomini a morire rispetto alle donne purtroppo perché sarebbe opportuno che in realtà nessuno morisse. Ora, questo era il dato cinese e ne avevamo iniziato a discutere internamente. Poi, come sappiamo, il nostro paese è stato colpito fortemente da questa patologia e il dato è stato confermato anche in Italia. Ora, io lascerei la parola a Maria Teresa che ci scriverà i dati e niente. Maria Teresa, io non ho detto chi sei ma io lo do per scontato. Cioè, tu sei una neuroscienziata, sei una mia amica, l'ho già detto, sei una co-fondatrice del Women's Brain Project. Sì, assolutamente. Ti puoi presentare, Maria Teresa. Esatto. Per favore. Molto brevemente, buonasera a tutti, è un piacere essere qua. Mi chiamo Maria Teresa Ferretti, sono una neuroscienziata come formazione. La mia passione è l'Alzheimer, in realtà, la malattia dell'Alzheimer che studio da dieci anni. E dal 2016 sono la co-fondatrice e anche la Chief Scientific Officer, quindi la direttrice scientifica del Women's Brain Project. Sono una scienziata, mi piacciono i dati, mi piacciono i numeri, quindi appena abbiamo iniziato a seguire le vicende del Covid ho subito bombardato Evelina che era in Cina per chiederle di farmi avere numeri, numeri, numeri e dati. E come arrivavano? Infatti abbiamo iniziato a ragionarci su e quasi subito ci siamo rese conto di questa differenza. Devo dire, il dato più forte che ci ha convinto maggiormente è arrivato quando l'Istituto Superiore di Sanità ha fornito i dati italiani sui casi di infetti e sui decessi con una bellissima analisi fatta separando appunto uomini e donne. Questo dato in effetti era perfettamente in linea e rafforzava quello che avevamo già visto in Cina ed è il dato che stiamo riportando qua in questa slide. Quello che è interessante è che uomini e donne in realtà vengono contagiati con la stessa percentuale, cioè più o meno lo stesso numero di uomini e donne contagiati però in tutte le fasce di età tranne quella del 90 più sono gli uomini a morire maggiormente. Al 27 marzo le statistiche dell'Istituto Superiore di Sanità ci dicono che il 70% delle morti avvenute per Covid o con Covid erano fra uomini. Questo è un dato fortissimo in questo momento è il dato più evidente a livello mondiale. Non sono tutti gli stati a fornire dati così dettagliati come quelli italiani però si sta iniziando ed è stato per noi già questo dato italiano comunque per noi era interessantissimo però nelle scorse settimane abbiamo iniziato ad avere sempre più dati. Abbiamo una collaboratrice che è in Spagna, Barcellona, Florenza Julita mi ha subito e ho immediatamente mandato il report delle autorità spagnole ugualmente dati quasi identici a quelli italiani sono arrivati qualche giorno fa i dati tedeschi ugualmente in linea quindi se Antonella mi mette la slide successiva in questo momento esiste un sito internet che è stato creato proprio per raccogliere questi dati e questo è uno screenshot ed è una parziale non vedete neanche tutto però i paesi che sono stati colpiti con più casi potete vedere che non tutti ma la maggior parte hanno pubblicato dati separati per uomini e donne e più o meno in tutti i casi il dato è sempre quello cioè uomini e donne colpiti al 50% 50-50 però poi fra un 60 e un 70% di morti fra gli uomini. Maria Teresa potrei chiederti di commentare anche il dato qui non riportato forse però Cesare che ci ha aiutato nella slide precedente lo aveva visualizzato ma forse non lo vedo qui quello che riguarda il numero degli operatori sanitari e della relativa infezione se potessi pensare questo. Sì è interessante perché lì abbiamo un'inversione allora un 9% dei casi finora trovati di covid avviene fra gli operatori sanitari e lì in realtà gli uomini sono il 35% più o meno una percentuale che cambia con i giorni ma è più o meno lì quindi la grande maggioranza delle persone infettate che lavorano nell'ambito sanitario sono donne quindi nell'ambito sanitario c'è un'inversione della tendenza ed è probabilmente l'infettività ma non della mortalità si sono questi dati della mortalità non sono stati distribuiti ma si suppone che se facciamo la statistica generale di queste donne maggiormente infette comunque continuano a morire meno rispetto agli uomini il dato finale però fra i dottori questo dato ce l'abbiamo e sembrerebbe un secondo giusto una nota poi una domanda per favore tutti mettete muto perché si sentono dei feedback e poi la domanda invece è riguardo al fatto che in genere le donne hanno una maggiore longevità quindi si sa che il covid 19 in qualche modo ha una correlazione con l'età e qualcuno potrebbe pensare che avendo questa correlazione il fatto che le donne hanno una maggiore longevità rispetto agli uomini dovrebbero essere più colpite quindi la mia curiosità è esattamente cosa pensate che sia il fattore per esempio le donne sono più più sane oppure ci sono proprio delle differenze anche diciamo fisiologiche o di altro tipo che comunque incidono in questo in questo dato Maria Teresa vuoi commentare? sì sì assolutamente una bellissima domanda grazie quella della longevità viene tirata spesso fuori per l'Alzheimer per esempio ma quello sarà un altro podcast di cui parleremo un'altra volta in questo caso qua nessuno lo sa per certo però possiamo discutere di ipotesi ci sono alcune ipotesi a livello proprio biologico di come funziona il virus prima di tutto questo virus è un coronavirus e questo dato su differenze uomini e donne è stato già visto con MERS e con SARS era molto simile quindi sembrerebbe esserci proprio qualcosa nella biologia del virus che è diversa tra uomini e donne due ipotesi in questo momento di cui si sta parlando nella comunità scientifica uno è il modo in cui il sistema immunitario risponde al virus il sistema immunitario di uomini e donne è molto diverso le donne adulte giovani e adulte hanno un sistema immunitario di solito più forte degli uomini e del motivo per cui tendono a soffrire di più di malattie neuroinfiammatorie e autoimmuni come la sclerosi multipla per esempio il lupus però con l'età c'è un'inversione anche qua con l'età le cose cambiano e di recente è stato dimostrato che invece il sistema immunitario dai 65 anni in su degli uomini sembrerebbe dare una risposta più forte di tipo proprio infiammatorio quindi le famose citochine come si dice in italiano tempesta di citochine la cytokine storm che questa risposta infiammatoria che poi distrugge i polmoni è stato dimostrato che può essere più forte negli uomini questo chiaramente è un'ipotesi che andrebbe verificata nei pazienti e nei campioni che abbiamo però è una e un'altra che posso citare è quella del recettore che il virus usa per entrare per invadere le cellule che si chiama ACE2 ACE2 e questo recettore è espresso sul cromosoma X quindi c'è già tutto un discorso di regolazione diversa fra uomini e donne ed è stato dimostrato a più livelli che la sua espressione e la sua funzionalità cambiano in funzione anche degli ormoni come l'estrogeno quindi c'è tutto un filone di ricerca che dice che potrebbe essere proprio la differenza chiave questo recettore che è quello che fa entrare il virus nella cellula queste sono due ipotesi possibili poi non so Antonella se tu vuoi commentare ipotesi a livello di gender di comportamento noi abbiamo avuto una conversazione ieri con un giornalista che ci chiedeva se fosse anche addirittura una questione di norme igieniche c'è proprio che le donne si lavino di più le mani di quanto lo facciano gli uomini io ho avuto un po' da ridere su questa cosa perché magari sarà forse anche vero e sarà smentita però secondo me è uno stereotipo che poi si riallaccia tanti stereotipi che ci sono in generale nella nostra società perché se così fosse allora avremmo che anche i bambini che sicuramente sono quelli con le norme più igieniche e meno come dire adeguate sarebbero i più infetti per fare un ragionamento un po' psicologico da un punto di vista di genere di usi e costumi si può parlare anche del fumo di sigaretta se vogliamo è stato anche fatto accenno a questa ipotesi ossia che gli uomini abbiano fumato o fumino di più rispetto alle donne e che quindi potrebbe stare ad indicare il perché di questa maggiore mortalità in questo momento questa cosa potrebbe essere sicuramente una cosa che contribuisce alla patologia rimane il fatto che sappiamo anche che da dati italiani in realtà l'abitudine al fumo è maggiore tra le giovani donne rispetto agli uomini quindi se questo fosse poi un fattore aggravante avremmo che nelle giovani ragazze dovremmo avere che la mortalità si riapri né per la mortalità per fortuna né tantomeno per l'infezione il numero di infetti quindi insomma io penso che ci siano fattori biologici dietro a questo fenomeno che stiamo osservando ma del resto questo è confermato in tutta la medicina non è soltanto il coronavirus ed è per questo che noi nel 2016 abbiamo iniziato questa attività scientifica e di advocacy e di generare consapevolezza su questa cosa con chi dovesse prendere decisioni di tipo politico sociale o di tipo regolatorio perché queste differenze si riscontrano nella maggior parte dei casi della patologia conosciuta negli esseri umani perché a tutt'oggi non c'è mai stata una grossa attenzione per tutta una serie di fattori che neanche stiamo a discutere perché non andiamo a guardare al passato ma noi vogliamo migliorare il futuro e quindi la nostra attività è finalizzata proprio a questo a capire il perché il per come posizionare queste scoperte per un miglioramento dello sviluppo scientifico e tecnologico e quindi mirare a quella che noi definiamo la medicina di precisione la mia domanda è magari vuoi dire tu che cos'è la medicina di precisione e che cosa fa il Remembering Project e io cambio la slide per introdurre il pubblico al nostro lavoro in maniera un po' più dettagliata sì probabilmente forse tu hai qualche slide che può anche aiutare a spiegare il concetto ma io inizio in maniera generale la medicina di precisione diciamo che la reazione e la risposta a quella che invece è considerata è stata definita da Eric Topol la shallow medicine la medicina diciamo un po' bassa e piatta ci si è resi conto che in molti ambiti della medicina oggi come oggi non si ottengono grandi risultati i farmaci non funzionano i pazienti non rispondono bene ai trattamenti e sta venendo su la consapevolezza che questo è dovuto al fatto che i pazienti non sono tutti uguali molto semplicemente questo è un qualcosa che istintivamente capiamo tutti ma ci sta arrivando anche la scienza stiamo capendo che ci sono tantissimi fattori che condizionano la risposta di un individuo a una patologia e poi al trattamento e quindi per ottimizzare tutto l'iter diciamo medico dalla prevenzione alla diagnosi al trattamento di un individuo in realtà sarebbe molto importante capire una serie di elementi che caratterizzano quell'individuo per noi il sesso e il genere sono il numero uno e diciamo il più facile per questo noi lo chiamiamo il gateway per la precision medicine cioè proprio il portale la porta che ti fa entrare ma poi ci sarà l'etnicità ci sarà tutto l'aspetto genetico epigenetico il microbioma un discorso molto complesso però noi pensiamo che è necessario per migliorare lo stato attuale della medicina andare in questa direzione che accoglie cerca di comprendere e di studiare questa complessità per dare il trattamento giusto al paziente giusto al momento giusto se posso intervenire brevemente essendo questo il momento in cui c'è una transizione verso la data science artificial intelligence e enormi potenzialità di calcolo che non c'erano fino a 10 anni 20 anni fa mi sembra che sia esattamente il momento in cui questa esigenza possa essere messa in pratica e quindi portare a dei risultati importanti io mi permetto di mostrarvi in tal proposito una slide se la trovo che va esattamente no non c'è qui comunque sì non credo no volevo mostrare quella dei dati relativi alle differenze negli effetti collaterali di farmaci che sono stati messi in luce da un grosso studio fatto grazie appunto all'intelligenza artificiale e al real world data set dove si è visto che il numero di reazioni interazioni tra farmaco e farmaco che poi portavano all'ospitalizzazione del paziente sono maggiormente frequenti nelle donne e nelle persone anziane questo rappresenta un dato allarmante perché sta a significare che abbiamo un'interazione di farmaci a noi sconosciuta che comunque comporta l'ospitalizzazione del paziente ripeto donne e uomini e rappresenta dei costi enormi per la sanità perché questo significa avere dei costi aggiuntivi a quello che poi è il costo normale di una patologia che deve essere trattata e tenuta sotto controllo ora questo è un aneddoto ma ce ne sono tanti altri io per esempio quello che trovo assolutamente emblematico che è un po' quello che apre gli occhi per la prima volta senti parole di queste cose è questo dato qui cioè qui abbiamo una pubblicazione di un report che tra l'altro ormai io definirei obsoleto ma è l'unico di cui effettivamente disponiamo a tutt'oggi perché dal 2001 non l'ha fatto più nessun altro cosa avevano fatto l'United States General Accounting Office ha rilasciato questo report dove andavano a guardare il perché di certi farmaci fossero ritirati dal mercato e quello che è legato fuori è che da 10 farmaci appunto analizzati 8 erano stati ritirati perché si era riscontrato che vi erano degli effetti collaterali maggiormente tra le donne ora questo sta a dire non soltanto che abbiamo un farmaco che non c'è più sul mercato e che comporta una spesa enorme perché togliere un farmaco dal mercato vuol dire perdere milioni e milioni ci vogliono quasi 20 anni per portare una medicina dal suo sviluppo iniziale al paziente insomma immaginiamoci tutti i costi che ci girano intorno ma soprattutto abbiamo una persona che è stata esposta ad un rischio grandissimo al punto tale da dover ritirare questa medicina è un rischio che può risultare letale anzi che è stato letale quindi ci sono state delle persone morte queste erano paradossalmente donne questo perché perché molto probabilmente nello sviluppo iniziale di queste medicine le donne non erano state incluse nella maniera giusta a far capire a colui che sviluppava la medicina quindi al drug developer che c'era un rischio di avere dei severi effetti collaterali che poi avrebbero portato a questo risultato deleterio e tra l'altro il risultato è deleterio perché molto probabilmente c'era una parte della popolazione magari quella maschile che beneficiava di questo medicinale perché questo medicinale inizialmente avrà mostrato un'efficacia e una sicurezza almeno negli studi iniziali quindi per ricapitolare abbiamo una situazione in cui c'è un farmaco che viene ridilato dal mercato con una spesa enorme e con una perdita di soldi incredibile con il rischio che una persona che ha preso una medicina che non gli serviva addirittura gli ha fatto male al punto tale che ha avuto degli effetti collaterali devastanti e punto terzo chi poteva veramente beneficiarne non ha più la medicina che può andare a comprare il farmacente quindi è un po' un cane come il gatto che si morde la coda come si dice e noi stiamo cercando di far capire che questa è una soluzione che va risolta un altro esempio che posso mostrarvi questo è un fenomeno attualissimo nel senso che ora tutte le case farmaceutiche per spiegarlo a chi non lavora in case farmaceutiche hanno una tensione enorme sul post marketing controllano le medicine cercano di controllare per esempio anche nei social network in altre piattaforme per identificare gli effetti collaterali immediatamente e intervenire perché appunto gli effetti collaterali ci sono e ci sono costantemente quindi è molto importante che ci sia la precision medicine dove le medicine sono poi orientate a chi si sa che può beneficiarne piuttosto che a un pubblico che potrebbe appunto avere degli effetti collaterali molte volte anche molto seri Io voglio a tal proposito illustrarvi anche questa slide che è molto informativa questo è un lavoro pubblicato nel 2015 da Schrock e i suoi colleghi su Nature e lì si parla addirittura di one trial one patient trial only cioè di un clinical trial che nel futuro come diceva giustamente Maria Teresa magari verrà fatto proprio tailored sull'individuo quindi cucito addosso alla singola persona ci sarà il sarto che cucirà uno studio clinico in base a quella che sarà la tua penotipicità basata su che tipo di persona sei sulla tua proteomica sulla tua metabolomica sulla tutto quanto il tuo DNA ovviamente quindi in questo studio poi quello che viene fuori è un'analisi dei farmaci maggiormente prescritti al momento questo era il 2015 2014 questo dato la pubblicazione del 2015 io vi invito a guardare un attimino qui in blu e in rosso se prendiamo per esempio Abilify Abilify è una medicina che viene data ai pazienti che soffrono di schizofrenia ora in blu ci sarà l'omino che sarà contento per prendere questa medicina mentre nelle altre quattro persone questa medicina non avrà alcun effetto se guardiamo nexium che è un gastroprotettore che prendiamo praticamente quasi tutti quanti quando andiamo ad avere di fans o altre terapie abbiamo che aiutatemi a contare non mi ricordo adesso i numeri ma siamo uno non mi sembra 29 non mi ricordo con un IRA che viene dato per l'artrite uno su quattro se guardiamo Copaxone che è per la sclerosi multipla abbiamo anche un dato impressionante uno mi sembra fuori uno su diciotto insomma questo a dire ripetiamo che ci sono delle persone che prendono una medicina che non avrà alcun effetto su di loro che esporrà degli effetti collaterali non desiderati e che alla fine della fiera comunque dobbiamo andare a rimborsare quindi che ha un costo per tutto il sistema sanitario che va a rimborsare questi farmaci che vengono prescritti a gente che non è benefica quindi torniamo al discorso della medicina di precisione dobbiamo muovere dobbiamo spostarci da una medicina superficiale ad una medicina precisa e questo diverrà il futuro e farà sì che la medicina sia sostenibile ora tornando al covid e poi io rilascio la parola a Maria Teresa magari per dei commenti noi siamo come dire siamo siamo non so come esprimermi perché devo essere politicamente corretta perché insomma la situazione è gravissima quella in cui non stiamo vivendo su questo non c'è dubbio però da una parte per la prima volta chiaro tutto il mondo che ci sono delle differenze di sesso e genere che vanno analizzate quindi è un'opportunità per trasformare un'antipateria è un'opportunità per migliorare la medicina quindi diciamo che è il momento opportuno per ingaggiare tutti quanti gli interessati in una conversazione sul tema non so come la vedete voi ma tu come la vedi? No infatti io volevo riagganciarmi al discorso dell'opportunità faccio giusto questo commento e poi non so se magari ci sono delle domande a cui possiamo rispondere però il punto su cui noi stressiamo è che queste differenze che esistono non sono un problema diciamo nel sistema sono proprio un'opportunità ci danno la possibilità di studiare la biologia del virus e forse di studiare anche dei trattamenti ad hoc quindi nel caso anche del del covid ma è lo stesso discorso che facciamo in Alzheimer e in altre malattie dove ancora non c'è un trattamento secondo noi una considerazione molto interessante da fare è andare a vedere se i trattamenti hanno risultati diversi fra uomini e donne e fra altri gruppi ma diciamo concentriamoci adesso fra uomini e donne perché magari quando metti i dati tutti insieme il farmaco non ha funzionato ma forse se separi e se individui i gruppi troverai un gruppo che ha risposto quindi secondo noi questo discorso della medicina di genere e della medicina di precisione aumenta le possibilità di identificare dei possibili target farmacologici e delle popolazioni che possano rispondere quindi proprio per trovare una cura e in questo momento purtroppo per il covid questo è molto attuale esatto io vorrei spendere magari due parole soltanto prima di passare alle domande su chi siamo perché forse non l'abbiamo detto in maniera molto attenta il Win & Brain Project è un'organizzazione che consiste che è caratterizzata prevalentemente dalla presenza di scienziati ma anche pazienti o come dire persone che ci supportano e che in qualche maniera lavorano su quattro pilastri noi ci occupiamo dello studio delle differenze di sesso e genere su quella che è la scienza preclinica la scienza clinica quindi lo sviluppo dei farmaci ma anche le politiche sociali e soprattutto la parte delle nuove tecnologie perché anche lì sappiamo che c'è un bias enorme non soltanto nella persona che sviluppa la nuova tecnologia dove sappiamo che le donne sono ancora non sufficientemente rappresentate ma anche nel dataset tu in questo Enrico ci insegnerai molto spesso il dataset è altamente biased perché viene a rappresentare una popolazione che viene studiata e se abbiamo che per lo più sono white european male quindi persone di etnia europea maschi è chiaro che poi il risultato delle informazioni e dell'analisi può essere applicata per il beneficio di soltanto questo gruppo e non di tutto il resto della popolazione quindi questo è quello che noi facciamo come lo facciamo lo facciamo con delle complicazioni scientifiche previste che abbiano ovviamente un alto fattore di impatto studiamo dei libri perché facciamo appunto anche questo abbiamo un supporto di un grande network ma anche di advisor che sono come dire dei luminari nella materia e poi abbiamo il nostro forum che è un evento ormai alla sua terza edizione e oggi abbiamo imparato che lo faremo probabilmente o tutto virtuale o ibrido quindi non ci fermiamo e la nostra idea è quella di averlo il 19 il 20 di settembre originariamente era pianificato per essere ospitato all'università anzi all'ETA di Zurigo dove ha studiato Einstein noi speriamo di averlo ancora lì nel senso speriamo che le cose tornino ad una pseudonormalità e quindi è lì che poi portiamo i regolatori policy makers scienziati tutti noi come cittadini a discutere di queste differenze di come migliorare appunto le soluzioni relative alla patologia e alle malattie poi un'altra cosa che facciamo facciamo dei workshop informative educhiamo chi fosse interessato a questo a questo topic quindi lo facciamo sia con il Big Pharma lo facciamo con non so la palestra con il Rotary insomma chiunque voglia conoscere di queste tematiche in maniera attenta noi siamo disponibili a a il nostro messaggio e nulla abbiamo appunto ambasciatori abbiamo vabbè siamo seguiti ovviamente su Twitter e questi sono andati un po' vecchi in realtà ma abbiamo un grande numero di follow abbiamo una serie di piatti come i soci sono molto molto attivi qui sono le coperture della stampa e abbiamo avuto il coverage insomma su un piuttosto importante e continuiamo ad avere una forte attenzione perché è un argomento molto molto interessante questo è il nostro advisory board dove abbiamo persone un po' da tutto il mondo noi abbiamo anche stiamo molto fiere una collaborazione con un ospedale in India che è dedicato prevalentemente alle donne alla salute mentale delle donne ma anche alla salute in generale perché appunto una donna in India abbandonata su strada avrà non soltanto una malattia mentale ma anche tante comorbidità che qui per fortuna non è realtà però insomma per dire qual è il nostro respiro India, United States, Canada eccetera eccetera e poi abbiamo degli ambasciatori che sono delle persone eccezionali c'è Sofia che è la nostra ambasciatrice più powerful diciamo lei condivide la sua storia sull'Alzheimer in un blog che è possibile visitare sulla nostra pagina web e vi invito veramente a farlo perché è abbastanza tante Sofia è una donna di 42 anni con due figlie e è stata diagnosticata con la malattia d'Alzheimer quindi sono storie vere noi mettiamo il paziente al centro perché questa è una cosa che io personalmente ma tutto il WBP deteniamo sia fondamentale perché molto spesso anche nello sviluppo delle soluzioni o farmacologiche o qualunque se siano ci dimentichiamo che la persona che forse ne sa più di tutte è il paziente e quindi bisogna imparare ad ascoltare forse un po' di più e essere patient centric come dicono gli americani o gli inglesi quindi mettere il paziente al centro e poi purtroppo diciamo pazienti prima o poi lo diverremo tutti perché purtroppo la vita è così detto questo io finirei perché non penso di aver dimenticato nulla ho dimenticato qualcosa Maria Teresa? No io ringrazio molto per tutto quello che ci avete raccontato fino ad ora e poi sottolinei appunto il fatto dei bias nei dati siccome è stato menzionato da Antonella è un problema serio su cui tanti lavorano qualche tempo fa si era scoperto negli Stati Uniti che per esempio delle ricerche sul breast cancer quindi il cancro al seno funzionavano relativamente bene i predittori i classificatori creati con intelligenza artificiale funzionavano bene sulla popolazione di donne bianche mentre non funzionavano affatto sulla popolazione nera quindi c'era un problema etnico lì esistono anche tanti altri bias che stanno venendo appunto studiati ed è importante avere una consapevolezza delle varie dimensioni in cui questi bias possono essere creati quindi mi è piaciuto moltissimo il fatto che il bias nel genere è un gate per anche identificare tutti gli altri certo noi siamo ambasciatrici della diversità nello sviluppo delle soluzioni cioè la diversità poi è sfaccettata in mille cose e giustamente il sesso e il genere sono appunto la porta d'accesso poi tutta la testa esattamente vorrei dire che già nella chat qualcuno chiedeva quando sarà il forum quindi immagino che tra nell'audience ci sia molto interesse il 19 e il 20 settembre da quello che ho capito e niente quindi vi ringrazio per aver presentato questo importante topic lascio il microfono aperto a chiunque avesse domande e poi possiamo insomma elaborare una chiacchierata tutti insieme Ok Enrico io colgo giusto l'occasione facendolo con te assieme agli altri per ringraziare tutti anche della presenza un appunto molto molto semplice cioè quello di fare in modo che questa conversazione possa diventare uno spunto per collaborazioni poi future così come ci siamo detti più volte con Antonella adesso l'Italia credo che ha bisogno quanto mai prima di una struttura scientifica che detti quello che è la strada verso il futuro quindi ho visto anche nell'elenco tanti amici ricercatori da ogni parte del mondo quindi facciamo gruppo e dopo diciamo dopo questa considerazione io lascerei così come detto da te il microfono a chi ha interesse a porre domande ecco quindi grazie ancora grazie a tutti Grazie a tutti